Negozi aperti con i saldi di fine stagione e iniziative di intrattenimento per il centro storico di Sansepocro, che torna ad animarsi con la quarta edizione della Notte Bianca. Un'iniziativa che ogni anno attira nella città pierfancescana migliaia di persone. Sabato prossimo, infatti, Sansepocro calamiterà l'attenzione dei centri toscani e di quelli delle limitrofe Umbria-Romagna. Il divertimento, la musica saranno al centro dell'attenzione, ma sono tante le iniziative che convolgeranno tutto il centro cittadino dalle 19 di sabato fino alle prime luci del sole di domenica 12 luglio. Il Centro Commerciale Naturale e l'Associazione Commercianti del Centro Stolico stanno coordinando l'evento anche con iniziative importanti, come quella predisposta dalla Polstrada di Città di Castello, che in via 20 Settembre illustrerà tutte le problematiche legate all'abuso di alcol per chi si pone alla guida di un'auto. Anche l'Asla numero 8 ha dato appuntamento ai giovani, illustrando tutti i danni e la pericolosità che nascono dall'abuso di stupefacenti ed alcol. I negozi del Centro Storico potranno ospitare i clienti fino a luna di notte, mentre i barri, pub, pizzerie e ristoranti avranno l'opportunità di rimanere aperti fino alle 4 del mattino. Aria Fitness a Porta Fiorentina, il Circo Panico ai Giardini di Piero della Francesca, tennis tavolo in Viale Diaz, cena all'aperto in Vialuca Pacioli, tavoli apparecchiati in gran parte del Centro Storico, giochi, tanta musica, in particolare caraibica, terranno compagnia agli ospiti di Sansepolcro. Coinvolta anche la piazza Torre di Berta per una scena all'aperto, mentre i saggi della scuola di danza e quella di teatro saranno altri appuntamenti fissi. Gli organizzatori quest'anno si sono dati da fare anche nell'allestimento di bagni chimici in molte parti del Centro Storico. Sansepolcro può vivere momenti particolari di svago, mantenendo sempre però la caratteristica di una città vivibile.